Gli italiani hanno paura del coronavirus e quindi si è scatenata la caccia a tutti quei prodotti che servono per disinfettarsi le mani quando siamo in giro. Purtroppo questi sono praticamente scomparsi ma girano ormai su web, su Instagram, Facebook, YouTube, Whatsapp, una serie di ricette fai-da-te che non sono assolutamente validate. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole Chimico di Quartiere. Per una volta sospendiamo la regolare programmazione dei video di questo canale per fare un video un po' speciale perché, me l'avete chiesto in tanti sui vari social, vi voglio far vedere la ricetta ufficiale per preparare un prodotto per disinfettarsi le mani data direttamente dall'OMS, cioè dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È la ricetta che addirittura suggerisce di utilizzare nei paesi poveri in via di sviluppo addirittura ai chirurghi prima di operare. A dire la verità ci ho pensato un po' prima di pubblicare la ricetta sulla mia pagina Instagram due giorni fa e su Facebook e questo perché non volevo aumentare così l'isteria un po' collettiva che c'è rispetto a questa situazione che è sì da prendere sul serio ma ancora non siamo a livelli di catastrofe stile zombie. Però nel momento in cui ho visto cominciare a circolare tutta una serie di ricette che non avevano nessun senso allora ho deciso che a questo punto tanto valeva dare la ricetta e quindi l'ho pubblicata su Instagram su Facebook e anche sul mio blog e adesso vi faccio un video. Vi dico subito che la ricetta data dall'OMS che ritiene efficace contro virus e batteri per disinfettarci proprio le mani in situazioni in cui non c'è acqua e sapone a disposizione perché ricordiamo che lavarci con acqua e sapone frequentemente le mani è la cosa migliore da fare quindi questo non è un sostituto del lavarsi con acqua e sapone. Dicevo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto varie prove e trova che l'alcol etilico o in alternativa l'alcol isopropilico sono delle soluzioni efficaci per disinfettare velocemente le mani mentre altre soluzioni basate su prodotti a base di cloro quindi ipoclorito di sodio la stessa sostanza che è contenuta nella candeggina nella buchina e in altre preparazioni commerciali beh se sono adatte a concentrazioni diciamo sufficienti per sanificare per esempio delle superfici dure che ne so il bancone della cucina il bagno e così via invece per le mani la pelle non sono molto adatte e questo per un motivo molto semplice per poter agire oltre a tenere in conto la concentrazione di cloro attivo diciamo così di quei prodotti c'è da tenere presente anche il tempo di contatto molti di quei prodotti hanno bisogno di tempi di contatti lunghi che sono incompatibili con invece i tempi con cui normalmente ci laviamo le mani vi metto ovviamente il documento in descrizione quindi potete leggerlo il documento prescrive la produzione di 10 litri di prodotto io l'ho scalata e invece dei millilitri che non usiamo perché molte persone non hanno un cilindro graduato ho fatto una conversione in grammi la cosa fondamentale da sapere il concetto fondamentale è che l'azione disinfettante viene fatta dall'alcol etilico a patto che nel prodotto finale abbia una concentrazione tra il 60 per cento e l'80 per cento cioè è più efficace un alcol etilico un po diluito con dell'acqua e altre sostanze quindi all'80 per cento che non l'alcol etilico puro e questo perché la miscela di acqua e alcol etilico si è dimostrata molto più efficace per denaturare le proteine esterne a virus e batteri che non invece l'alcol puro prepareremo 200 millilitri di soluzione quindi prendiamo un recipiente pulito e mettiamoci dentro 135 grammi di alcol etilico a questo punto la ricetta dell'OMS prescrive di aggiungere un po di acqua ossigenata al 3 per cento cioè la normale acqua ossigenata a 10 volumi attenzione l'acqua ossigenata viene aggiunta non per una sua azione disinfettante perché il principio disinfettante in questa preparazione è l'alcol etilico ma viene aggiunta per eliminare eventuali spore batteriche che siano rimaste per esempio presenti nella bottiglia specialmente se magari in quei paesi viene riutilizzata più volte oppure nell'acqua che andremo ad aggiungere o nelle altre sostanze aggiungiamo 8 grammi di acqua ossigenata ecco fatto il terzo ingrediente dell'OMS è la glicerina io ne ho trasferito un po in questa bottiglietta perché ho comprato una bottiglia molto grande quindi mi era scomodo si utilizza da un sacco di tempo in cosmetica magari qualcuno di voi fa dei saponi fai da te magari l'ha utilizzata ultimamente si utilizza anche per esempio per i liquidi delle sigarette elettroniche comunque la funzione della glicerina in questa formulazione è quella di essere emolliente cioè se noi utilizziamo l'alcol per disinfettarci le mani più volte nella giornata beh le mani la pelle delle mani non è molto contenta perché si secca e quindi si utilizza un po di glicerina per mantenere un po la morbidezza delle mani e l'idratazione servono solo 4 grammi in questa formulazione il documento dell'OMS suggerisce che se non sia la glicerina di utilizzare qualche altra sostanza emolliente come altre che sono utilizzate normalmente nell'industria cosmetica però controllate che sia solubile in acqua e in alcol a questo punto dobbiamo aggiungere un po d'acqua facendo i calcoli dalla ricetta bisogna aggiungere in questo caso 22 grammi di acqua l'acqua dovrebbe essere acqua distillata e sterilizzata questo però non è molto fattibile spesso specialmente in quei paesi per cui l'OMS suggerisce di prendere dell'acqua farla bollire farla raffreddare e a questo punto utilizzarla a questo punto chiudiamo la bottiglia è importante ricordarsi che l'alcol è una sostanza volatile per cui questa preparazione adesso mescoliamo un pochettino delicatamente e se ne abbiamo preparata tanta possiamo distribuirla in percipienti più piccoli dicevo è importante ricordarsi che l'alcol è una sostanza volatile per cui come vi dicevo poiché l'efficacia di questa preparazione in generale dell'alcol etilico è tale solamente se la concentrazione rimane tra il 60% e l'80% questo che abbiamo preparato è circa l'80% se noi quindi lasciamo aperta la bottiglietta l'alcol evapora l'acqua molto meno e quindi alla fine scendiamo sotto l'efficacia dell'alcol e quindi abbiamo una soluzione che non è più efficace mentre si mescola vi dico una cosa importante perché molte persone su Instagram e su Facebook mi hanno detto ma possiamo utilizzare l'alcol denaturato al 90% quello rosa in teoria uno potrebbe fare i calcoli e utilizzare anche l'alcol al 90% in modo tale da arrivare sempre ad avere un prodotto finale con circa l'80% di alcol etilico tuttavia quell'alcol rosa che si chiama denaturato non è adatto per esempio per le preparazioni alimentari questo invece è quello se vi ricordate che ho usato anche per fare il limoncello scientifico per questioni fiscali diciamo sull'alcol alimentare su tutti i prodotti alcolici ci sono una serie di imposte che invece non sono presenti nell'alcol per uso comune quindi per evitare diciamo per la pulizia della casa quel classico alcol rosato quindi per evitare che le persone si comprino dell'alcol per uso domestico e se lo bevano saltando quindi il pagamento delle imposte che ci sono si aggiungono delle sostanze che lo rendono oltre che rosa assolutamente non commestibile in linea di principio queste sostanze possono essere anche dannose, irritanti per esempio per la pelle quindi non sapendo che cosa ci mettono dentro e sapendo che invece sono sostanze che fatte apposta per non essere utilizzato per uso diciamo alimentare mi sentirei di sconsigliare so benissimo che quest'alcol costa di più molto di più dell'alcol denaturato però anche la ricetta dell'OMS suggerisce soprattutto per un uso prolungato questo tipo di alcol e non alcol dove sono state aggiunte delle altre sostanze che oltre a potenzialmente essere irritanti per la pelle possono anche interferire con l'efficacia della preparazione l'OMS dice di lasciare riposare questa preparazione per 72 ore e questo per lasciare il tempo all'acqua ossigenata di agire e eventualmente eliminare le spore presenti se provate a utilizzarlo vedrete che è molto più liquido della sostanza che normalmente utilizzate se l'avete mai comprata per disinfettarvi le mani e questo perché noi non abbiamo aggiunto un addensante l'OMS chiarisce che il tempo di contatto deve essere sufficiente d'altra parte anche per lavarci le mani con acqua e sapone ci si deve mettere se andate a vedere il documento che poi vi linko sotto un minuto perché non è così facile lavarsi le mani per essere sicuri proprio di avere eliminato tutti gli eventuali batteri e virus e patogeni presenti sulle nostre mani quindi possiamo ripetere tre volte questa preparazione se preferite possiamo metterne in un recipiente più piccolo di quelli a spruzzo per esempio e utilizzarlo durante la giornata se invece volete proprio quel gel come quello commerciale che si utilizza bisogna utilizzare un addensante commercialmente per esempio usano una sostanza che si chiama carbomer cioè sono degli acidi poliacrilici che hanno la funzione proprio di addensare se volete anche se l'OMS non consiglia questo tipo di aggiunta potete utilizzare un addensante per uso alimentare quindi lasciate perdere ricette a base di candeggina, limoni, bicarbonato ovviamente non ve lo nevo neanche dire ricordate però che la cosa più importante che potete fare è lavarvi le mani noi introduciamo nel nostro corpo ma non solo per il virus di adesso ma in generale molte dei batteri, patogeni e dei virus li introduciamo perché ci tocchiamo le mani, ci tocchiamo con le dita tocchiamo delle cose che sono sporche si depositano questi microrganismi sulle nostre mani poi noi inadvertitamente tocchiamo la bocca, tocchiamo il naso, gli occhi, le orecchie e quindi ci infettiamo quindi la cosa migliore che si può fare è lavarsi le mani frequentemente francamente mi fa ridere che in un paese dove spesso non ci si lava neanche le mani dopo essere andati in bagno beh adesso siano tutti impazziti e vadano a comprare a peso d'oro su Amazon delle soluzioni disinfettanti quindi va bene se siete in una situazione all'esterno e avete bisogno frequentemente di utilizzarla va benissimo vedete che comunque non costa pochissimo proprio perché ci sono una serie di costi che sono imposti dallo Stato all'alcol di utilizzo alimentare una roba di questo genere probabilmente dovrebbero prepararla i farmacisti come facevano una volta e preparavano lì nella farmacia le varie specialità medicinali spero che il video sia utile almeno per calmare tutta quella serie di fenomeni che vedo stamattina sono andato al supermercato ho visto delle scene che neanche dai film post-apocalittici con gli zombie pensavo di vedere dove non c'era più la carta igienica, non c'era più la pasta, non c'era più il sale uno cosa cavolo se ne fa di chili e chili di sale quindi spero che sia utile per qualcuno per poter utilizzare se magari davvero ne ha bisogno perché magari ha un amico o un figlio immunodepresso oppure perché ha contatto tutto il giorno con un sacco di persone e quindi potenzialmente potrebbe essere infettato vi saluto e arrivederci sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere ciao